per raccontare ancora uno step successivo e magari veramente un contagio zero. Allora Giovanna, oggi la cartolina te la regalo io colpo di scena perché dovete sapere che la nostra Giovanna è stata ritratta come Giovanna Botteri, superwoman che fa l'occhiolino, è un murales, guardate, che è apparso a Firenze, non lontano da Piazza della Signoria, un collettivo di street art al femminile che si chiamano le Ladies's. Ok, quindi cara Giovanna, eccoti qua, ritratta, oramai sei diventata veramente iconica, ma noi ti amiamo per questo, quindi viva Giovanna, viva il superwoman Giovanna Botteri. A Firenze potete vedere dal vivo quello che mi sto mostrando. Giovanna, questa è la mia cartolina, oggi te la regalo io, ti mando un grande bacio e ci vediamo domani come sempre. E ora continuiamo a sorridere con te Lorella. Sì, grazie Alberto, anzi mi unisco anch'io ai saluti alla grandissima Giovanna Botteri, e noi come al solito a quest'ora andiamo a casa di un'amica.